Unreal Engine e Unity 3D sono le tecnologie con cui io e tanti altri nell'ambiente della computer grafica, del gaming, del metaverso ci troviamo a lavorare. In particolare sono dei software di rendering in tempo reale, il che significa che sono degli ambienti di sviluppo in grado di aggiornare le immagini a schermo con una grande frequenza, cosa che permette interattività, velocità di workflow. Voi potete immaginare che nel momento in cui vado a realizzare un mondo 3D ho l'opportunità tramite queste tecnologie di modificare aspetti della scena, vedere il risultato in tempo reale e poter fare in modo che l'utente interagisca con gli elementi della scena in tempo reale. Perché Unity e Unreal in particolare? Innanzitutto sono gratuiti, hanno una barriera di entrata minima, chiunque può scaricarli e iniziarli a studiare e sono i più diffusi all'interno dell'industria. Ovviamente io mi occupo, come dicevo, dell'aspetto della programmazione in particolare, delle interazioni, quindi della locomozione dei personaggi, di tutto ciò che rende effettivamente possibile al giocatore, all'utente di interagire con il mondo 3D, ma intorno all'ambiente di Unreal, di Unity, della computer grafica, ci sono una marea di figure professionali, artistiche, tecniche, sviluppatori, che contribuiscono alla creazione dei contenuti. Ora qui vi ho creato uno schimitto, diciamo, di quelle che sono le figure maggiori e dei software che vanno a utilizzare. Un mondo immenso, quindi fatto di tante, diciamo, possibili strade per entrare in questo ambiente. Io vi accennava, Antonio vengo dal mondo dei fumetti, per esempio, sono stato redattore letterista per una casa editrice, poi mi sono appassionato della programmazione, mi sono diplomato alla Geeks e ora mi trovo a lavorare con queste tecnologie. Ho un collega, per esempio, che ha fatto il cuoco per tanti anni, prima poi di entrare nel mondo del game design e della prototipazione, eccetera. Il grande, diciamo, fascino anche che comporta questo lavoro è proprio quello di trovarsi a stretto contatto con tante figure, con il mondo dell'arte, con il mondo della tecnica, con, diciamo, la possibilità di cavalcare l'onda del futuro, dell'innovazione, in tantissimi campi. Questi sono alcuni degli ambiti di applicazione in cui io mi sono personalmente trovato a lavorare, parliamo quindi dei videogiochi. Gaeta, prima ve lo accennavo, è uno strategico in cui si costruisce la città di Gaeta, una sorta di mini clash of clans per cellulare, in collaborazione appunto con il comune della città. Poi c'è Aguato, Aguato è un gioco nell'ambito del learning, quindi, diciamo, voleva essere un'altra forza di tool per insegnare i temi legati alla cyber security, sì, in persona un addetto alla sicurezza che deve scoprire le minacce alla, diciamo, alla riuscita del progetto di una software house, classificandole poi secondo i criteri dello try the chat. Non solo videogiochi, anche esperienze interattive. Per esempio, Open Diag abbiamo sviluppato, è un Open Day virtuale per la sapienza, con la possibilità di essere fruito sia in VR che in flat screen, e gli studenti, diciamo, gli aspianti studenti potevano vagare per l'ambiente virtuale e interagire con i professori, assistere alle loro conferenze all'interno, diciamo, dell'headset. E poi, ovviamente, come vi accennava Antonio, le nuove frontiere sono il metaverso, in particolare a Red Dog stiamo lavorando con Axon Park, si tratterà di una sorta di scuola nel metaverso, un campus virtuale, fondamentalmente legato all'ambiente del learning, e altro grande ambito è la virtual production cinema, quindi tutto ciò che riguarda lo sviluppo degli effetti speciali e il flusso anche di lavoro, preproduzione, tutto quello che è il montaggio, compositing, all'interno, nell'ambito del cinema. Non solo questo, ovviamente, tutto ciò che può avere, diciamo, beneficio dall'utilizzo della grafica 3D. Gli ambienti di applicazione di queste tecnologie sono tantissimi, questi sono altri esempi, visualizzazione architettonica, la possibilità, immaginate, di poter esplorare un palazzo, una struttura prima ancora che venga costruita, musei virtuali, progettazione industriale, simulatori e training, figuriamoci, abbiamo avuto, ti penso, esperienze di realtà aumentata, la possibilità di proiettare immagini 3D dal proprio smartphone nel mondo reale, diciamo, e poi c'è un'interessante parentesi, il computer di bordo delle Volvo, a quanto pare, visualizzerà immagini 3D girando con una reale, un piccolo, diciamo, un modo per mostrarvi quante poi effettivamente sono le applicazioni, elencarle tutte è praticamente impossibile, videogiochi, learning, metaverso, cinema, tutto ciò che può beneficiare appunto di contenuti in 3D.